Buongiorno, è arrivato il momento di fare un nuovo video creazione perché avevo il negozio Etsy abbastanza vuoto e quindi in questi giorni in cui ho stoppato le commissioni sono riuscita a ricreare qualcosina da inserire in negozio e adesso vi faccio vedere cosa è venuto fuori Allora, iniziamo da questi che vi ho fatto vedere, per chi ha seguito la diretta, vi ho fatto vedere nella diretta YouTube che sono molto etnici, tutti sul tono del blu, il verde acqua, l'azzurrino e il blu più chiaro sono semplicissimi perché veramente di sui tassi c'è veramente poco, c'è il modulino base centrale e poi ho fatto tutta questa lavorazione intorno Questa blu è con un filo di frange, mentre quelle sotto di due colori sono delle nappine che ho scucito e aperto e cucito dietro e poi dietro appunto c'è questa toppina in soutache blu e questi sono gli orecchini secondo me d'estate sono molto belli, ovviamente non sono molto invernali come un paio di orecchini però insomma mi piacciono poi di tutt'altro genere ho creato sempre il mio modello Runa che è questo, in questa colorazione che è una colorazione che avevo già proposto in passato non proprio così identica, però insomma l'accostamento tra l'azzurro e il rosso a me piace sempre un sacco e in questo caso ho fatto azzurro e verde acqua e questo è il risultato finale ci sono vari cristalli ciechi questi sono tutti cristalli ciechi questo sempre in vetro cieco idem la goccina in vetro alcuni cipollotti la catena di strass e la monachellina color oro e questo è il retro degli orecchini poi un paio di orecchini maiolica le ho chiamate così perché insomma queste piastrelline in vetro mi ricordano appunto le mattonelle e questi li ho voluti fare in una dimensione media non troppo lunga in questo modo qui con appunto la piastrellina in vetro che è leggermente in rilievo appunto perché è bombata che è di vetro due fili di sutash uno di fili incanto e uno di bead pearless jeans e poi ho messo questa goccia di agata blu e due goccine di vetro e mi piace molto perché comunque indossati tintinnano un pochino e sono molto semplici non è che è niente di eccezionale come difficoltà però mi piacciono eccoli qua tutte e due vi faccio vedere anche il retro eccoli qua in bianco invece rivestiti questa volta poi un modello un po' più grande è questo che è indossato è molto bello appunto per questi colori sul rosso allora qui ci sono vari fili sono tutti di bead pearless tranne questo rosso che è di fili incanto credo perché me l'ha mandato Erika nel nostro scambio poi c'è questo componente simil corallo dei cipollotti questi che sono in il resina opal la catena di strass e questa goccia molto bella che avevo acquistato da Fuchsia Firenze vi feci un video non tanto tempo fa quindi se per caso siete interessate andate a vedere scorrete tra i miei video e lo trovate che non è proprio un rosso vedete che ha qualche screziatura è molto bella sono leggerissimi e questo è il retro faccio vedere anche l'altro questo è il retro degli orecchini poi un altro modello molto particolare è questo questo modello è nato perché io volevo creare qualcosa con le perline e il soutache abbinato assieme diciamo che non essendo una perlinatrice non sono riuscita a fare un modulo vero e proprio in perline e poi il soutache però ho arricchito questo modulo che che avevo fatto e che sinceramente non sapevo come terminare con questi vari componenti in perline e queste non super duo twin beads sempre che mi aveva regalato Erika che mi ha fatto venire come avete visto un po' di di idea e quindi ho messo le twin così usate per agganciare la goccia e la monachella vi faccio vedere uno in particolare vedete qui ho attaccato la monachella e qui sotto invece la goccia sempre presa da fucsia firenze e questo è il retro degli orecchini e questi li trovo molto particolari come modulo che poi alla fine è venuto fuori e anche indossati sono molto fanno una bella figura poi l'ultimo paio di orecchini che vi faccio vedere in questo video li stavo terminando ieri sera e sono questi io li adoro mi piace proprio un sacco l'abbinamento dell'argento con il color smeraldo se magari vi ricordate questo modulo sotto l'abbiamo iniziato abbiamo fatto il progetto assieme in una diretta e ho già realizzato degli orecchini con questo modulo e questa volta l'ho voluto fare così vediamo se da vicino si vede meglio come vedete c'è una piattina completamente metallizzata di Royal Stone e due di Beed Perless questa qua di Royal Stone era abbastanza rigida e ho fatto un po' fatica a lavorarla perché essendo così laminata rigida se l'ago doveva passare proprio al centro preciso della piattina altrimenti si rischiava di di sfilacciare che si alzassero appunto queste lamelline e poi insomma facevano una brutta impressione e quindi ho dovuto proprio ci ho messo una vita perché ho dovuto infilare l'ago al millimetro per non rovinare questa piattina che è molto bella vedersi però un po' faticosa da usare i componenti sono molto semplici ci sono due dimensioni di gocce color smeraldo dei cipollotti sempre sul verde smeraldo e questa goccia in vetro che ho preso da da tinting sul retro non sono ancora rivestiti quindi c'è un po' di macello e quindi non ve lo faccio vedere oggi finisco di rivestirli così li aggiungo al negozio online ok questo è quanto volevo farvi vedere grazie per aver seguito questo video se vi è piaciuto lasciatemi un like che mi fa sempre piacere e un bacione ciao ciao